Arpec 2, il nome della tartaruga, della specie caretta caretta liberata nelle acque del Mar Piccolo a Taranto. Il carapace è proveniente dalla riserva naturale di Torre Guaceto dopo un periodo di cure e riabilitazione. È il culmine di una serie di attività che Arpec Puglia ha fatto sul territorio di Taranto in collaborazione con WWF Taranto e Aeronautica Militare. Abbiamo rilasciato questo esemplare di caretta caretta che è stata ritrovata qui in secondo seno di Mar Piccolo alcuni mesi fa la tartaruga era in serie difficoltà, aveva ingerito un amo e circa 30 metri di lenza e quindi è stata trasportata da noi all'Università di Bari dove è stata operata dal professor Di Bello e successivamente trasportata al centro di recupero di Torre Guaceto. Adesso quindi si è provveduta a questa liberazione così come previsto dalle normative quindi lì dove è stata trovata la tartaruga lì deve essere rilasciata. Noi ci abbiamo tenuto a questo tipo di attuazione delle normative proprio per dare un segno a questa città che questi eventi sono rari, normalmente rari, ma perché le tartarughe venivano comunque sia prelevate e rilasciate in posti sicuramente non idonei. Noi siamo convinti che questo sia la prima di una lunga serie di attività che noi cercheremo di condurre e di portare a termine sempre con l'ausilio e il supporto di queste associazioni e dell'Aeronautica Militare che ci ha messo a disposizione questo sito. L'esemplare di Testugine è liberata dalla base dell'Aeronautica Militare di Taranto alla presenza di numerose autorità tra cui il comandante colonnello Francesco Turrisi della Capitaneria di Porto, della Città dei Due Mari e di presenze politiche cittadine oltre che degli studenti degli istituti Ferraris e Frascolla di Taranto. La liberazione tra i flutti del mare condotta dal dottor Giacomo Marzano un'iniziativa questa che rientra nell'ambito delle attività di recupero di fauna selvatica ferita o in difficoltà. Un momento importante perché parla di attenzione agli esseri viventi e di promozione di una cresciuta consapevolezza e sensibilità verso il creato da trasmettere alle future generazioni.